Adesso stiamo lavorando per dare ancora maggiore centralità a Vallefoglia nel rapporto compreso Urbino con la Romagna e stiamo lavorando per realizzare il più grosso investimento di 2 milioni e 400 mila euro sul palazzetto dello sport per portare a 10 metri 1.500 posti. Stiamo lavorando per realizzare altri investimenti sulla sicurezza stradale per circa 900 mila euro, oltre 900 mila euro per le mura castellane di Colbordo, stiamo lavorando con l'università di Urbino per rendere fruibili le grotte dei tre castelli, Montefabri, Colbordo e Sant'Angelo in Lizzola. Stiamo lavorando per realizzare altri 60 posti al nido di Pian del Bruscolo, i lavori sono già in corso, abbastanza avanti, dopo l'estate probabilmente si potranno utilizzare gli altri 60 posti che si aggiungono ai 120 posti già esistenti, un unico nel panorama marchigiano, perché si apre la mattina alle 7 e si chiude la sera alle 7, quindi consente di lavorare a marito e moglie di quasi 200 persone. Poi stiamo lavorando per realizzare altri obiettivi strategici, lì per esempio in Pian del Bruscolo prevediamo il raddoppio della piscina, prevediamo altre otto aule interdisciplinari per le scuole medie e quindi un campo per l'atletica, un campo di rugby, un campo di calcio per giocare in Serie A, perché no? Noi abbiamo già una squadra di pallavolo maschile in Serie B, una squadra di pallavolo femminile in Serie A, giochiamo in Serie A nei campi delle bocce, al Morciola Sporting, quindi diciamo che abbiamo in programma una infinità di cose da fare in 5 anni, 5 anni vanno veloci, quindi bisogna avere rapidità anche nel fare tutti questi investimenti.